Una puntata di Polifemo dedicata alle iniziative natalizie degli esercenti di Confcommercio Taranto. Vediamo come i commercianti stanno vivendo insieme ovviamente ai cittadini, agli acquirenti, il Natale. Quali iniziative. Taranto vive certamente un momento difficilissimo, forse il più terribile degli ultimi anni, degli ultimi decenni. Però già la forza di vedere queste luci, questo sforzarsi comunque di essere positivi, già aiuta. E in questo senso, in questa direzione, si avverte forte la spinta appunto dei commercianti. Cercheremo di fare così una panoramica per i vari quartieri, per le varie delegazioni di Confcommercio sul territorio di Taranto. Partiamo dal Borgo, quindi dalla delegazione Borgo, con il suo presidente Salvatore Caffiero. Allora, Caffiero, una città splendente, come stanno andando le cose? Ma come dicevi tu, non è un momento particolarmente facile per la città, tutte le vicende legate. Splendente intendevo come luci, meglio precisare. Sì, sì, ora arriviamo anche a quelle. Dicevo, non è un momento semplice per la città perché quelle che sono le vicissitudini della grande industria continuano ad influire su quello che è innanzitutto l'umore delle persone oltre che le tasche. Nonostante ciò bisogna dire che quest'anno uno sforzo in più è stato fatto. Già il fatto di accendere le luminari il 22 novembre ha fatto sì che da quella data, data importante per noi perché Santa Cecilia, si sia respirata l'aria natalizia. Le luci d'artista, devo dire, hanno incentivato parecchio l'avvento di gente anche da fuori provincia, clienti che ormai non si vedevano da parecchio tempo, sono tornati in città apprezzando quella che è la nostra città. Quindi oltre le luci d'artista anche l'offerta commerciale che comunque per Taranto e per il borgo in particolare resta sempre importante, variegata, aperta a tutte le tasche con prodotti dei più economici a quelli del lusso. Quindi chiunque viene al borgo sa che può trovare un'offerta davvero ampia. D'altronde, diciamocelo apertamente, il borgo è il salotto della città, ma queste stesse luci attirano il cliente e poi si sa di Natale, volenti o nolenti, dei regali si devono fare. Quindi magari in un'atmosfera accogliente, cercando anche di sorridere, di essere positivi, di scrollarsi i problemi che ci attanagliano quotidianamente, non dico che il miracolo si può fare, ma si può migliorare. Guarda, devo dire che l'interesse dei clienti verso il borgo è stato davvero forte. Quest'anno abbiamo vissuto quasi uno stringersi attorno alle proprie attività commerciali, volerle tenere vive, perché la gente sta apprezzando gli sforzi che noi stiamo facendo in tutti questi anni di dura crisi economica e a livello mondiale in particolare per la città. Quindi abbiamo sentito il calore e la vicinanza dei nostri clienti e come dicevo prima, anche di quei clienti che da un po' di tempo non venivano più a Taranti e ora stanno tornando. In questo devo dire che con l'amministrazione comunale, nelle persone dell'assessore Marti, l'assessore Cataldino e l'assessore Castronovici è stata un'interlocuzione continua ed interessante. Stanno ascoltando quelle che sono le nostre necessità e per quanto possibile stanno venendo anche incontro a quelle che sono le necessità che noi di tanto in tanto li andiamo a rappresentare. Lo stesso problema dei parcheggi è stato affrontato, tant'è che durante il periodo natalizio siamo riusciti ad avere l'apertura della caserma Mezzacapo. Ciò vuol dire che anche la Marina è vicina a quelle che sono le esigenze dei commercianti e della città di Taranto più in generale. Quindi notiamo una certa sensibilità da parte dell'amministrazione e della Marina delle istituzioni più in generale. Fammi citare anche l'acquistura piuttosto che i carabinieri perché durante il periodo di Natale comunque abbiamo visto una presenza costante. Ciò vuol dire dare sicurezza alle persone, ai nostri clienti e ai cittadini generali che frequentano le vie del borgo. Andando nello specifico, come flussi di acquisti, come sono andate le cose anche rispetto agli scorsi anni? Sicuramente le somme le tireremo alla fine su quelli che sono stati fatturati nei negozi. Ciò che possiamo dire adesso è che nei weekend di Natale l'afflusso di gente è stato davvero importante. Ripeto, ci ha aiutato tanto la nuova apertura di area parcheggio, il servizio dei bus navetta messo a disposizione dall'AMAT. Si sta iniziando a ragionare... In maniera coessa, diciamo, le varie categorie, ognuno per il proprio settore di competenza, nel senso che l'amministrazione fa la sua parte dal punto di vista politico-amministrativo, le organizzazioni di categoria giustamente hanno le loro rivendicazioni, però in un'ottica, come dire, non per essere buonisti o ecumenici, ma in un'ottica di coesione, penso che Taranto possa respirare un po'. Ma qua non si tratta di essere buonisti, ma si tratta di mettere sul tavolo quelli che sono i dati di fatto. Noi quando c'è da dire cose, anche scomode, le diciamo, in questa occasione dobbiamo dire ciò che sta accadendo e ciò che sta accadendo sono fatti positivi. Mi piace poi, oltre quello che ci siamo detti in merito alle istituzioni, mettere in luce il volto dei commercianti che vogliono tornare protagonisti. Non per nulla abbiamo una via importante e storica del commercio tarantino, come Bianfi Teatro, che per una giornata durante il mese di dicembre è stata resa zona pedonale, dove i colleghi sono voluti tornare protagonisti, mettendo a disposizione dei propri clienti musica piuttosto che artisti di strada, aprendo anche dei portoni storici della stessa via, dove hanno fatto delle mostre di quadri, presentazioni di libri. Quindi c'è voglia di protagonismo positivo da parte dei commercianti e c'è voglia di continuare a collaborare con quelle che sono le istituzioni. Sicuramente ci saranno stati anche degli aspetti che magari sono andati meno bene, ma alla fine li vedremo, tireremo le somme e cercheremo di migliorarci per le prossime occasioni. Stiamo andando così in giro per il borgo e ci siamo spinti sino in Piazza Maria Immacolata. Siamo presso Max con il suo titolare Nicola De Florio. E allora parliamo un po', vediamo queste iniziative dell'amministrazione comunale in tema appunto di luminarie, di iniziative proprio di socializzazione per la città, parimenti l'apporto, il contributo dei commercianti, delle organizzazioni di categoria, Confcommercio in primis. Insomma, con questa azione sinergica, congiunta, che benefici ha portato sia in termini proprio di vivibilità, di rinascita della città, sia così per dare una boccata d'ossigeno ad un'economia che comunque a Taranto vive e sente la crisi. Certo, in effetti era da molto che attendavamo un segnale importante da quello che è la sinergia che in questo momento è spinta dall'amministrazione comunale nell'aver voluto un borgo così bello, illuminato, così innovativo. L'accertamento è fatto sì che in effetti un momento così difficile per questa città fosse visto essenzialmente dai cittadini e da tutta quanta la provincia come un momento in cui le energie si sono veramente aggregate al fine di ottenere un risultato che certamente in questo momento era necessario essenzialmente per il morale un po' di tutti quanti, essenzialmente per far comprendere che noi siamo qui e siamo di apporto a tutto quanto il resto, quello che gira intorno a quello che è l'economia della città e che certamente in un momento come questo dimostrare che le sinergie presentate da, proposte da amministrazione comunale, da forze economiche della città un certo tipo di risultato lo possono certamente portare. Per quanto riguarda i risultati economici non possiamo dire che siamo ancora in gestazione Oggi giorno di registrazione stiamo registrando in data 28 di dicembre però già abbiamo un mese pieno per poter tracciare un bilancio seppur parziale Diciamo che rispetto a quello che in effetti erano le prospettive già un bilancio è certamente positivo non possiamo dire la stessa cosa per quanto riguarda non sappiamo dal punto di vista effettivamente dei numeri se le cose perché ancora è troppo presto per poter esprimere dei numeri certamente questa voglia di voler riemergere e voler cercare di dare un aspetto a questa città diverso è stato proficuo certamente. Per fare un'analisi del commercio a Taranto nei vari quartieri almeno diciamo nei principali della città bisogna fare un po' di chilometri e noi non a piedi ma in macchina dal borgo ci siamo spostati a Tre Carrare Battisti e così andremo avanti Siamo presso la Singer, storica attività commerciale con Lelio Fanelli che ricordiamolo in questa sede ci parla come presidente della delegazione Tre Carrare Battisti di Conf Commercio Tre Carrare Solito anche Tre Carrare Solito Conf Commercio Taranto Benissimo, quindi per capirci tutto il tratto che va da Piazza Ramellini Da Via Leoni, da Cimino arrivando fino alla zona di Via Umbria praticamente come quartiere Quindi stiamo parlando di un'area estesissima peraltro un'area centrale, una bretella di collegamento tra il borgo e gli altri Beh, noi abbiamo registrato un forte entusiasmo nel borgo era giusto, prevedibile così Lei cosa ci dice? Abbiamo visto delle luminarie forse qui, come dire, le iniziative non sono come al borgo o a Italia Montegranaro ma vogliamo sentire la sua perché, ripeto, noi facciamo un'informazione libera e vogliamo registrare le varie sensibilità e le varie opinioni diverse d'altronde non stiamo in un sistema di voto bulgaro dove tutto è bello o tutto è brutto Beh sì, sicuramente è da apprezzare l'impegno dell'amministrazione comunale che negli ultimi anni ci ha, diciamo, anche alleggeriti del fardello delle luminarie ne parla chi l'ha fatto per 19 anni con un impegno abbastanza gravoso quindi da quel punto di vista non possiamo che essere grati un po' meno, devo dire la verità, per quanto riguarda l'attenzione che abbiamo ricevuto su un'area, come dicevi un attimo fa, delle tre più importanti commerciali di Taranto perché lì ci è sembrato quasi avere un contentino quest'anno dobbiamo dirla tutta perché le luminarie non hanno coperto l'aria come avrebbero dovuto così come ci era stato detto la stessa filodiffusione vorrei capire perché abbiamo soltanto quattro isolati di filodiffusione rispetto ad altre zone anche le iniziative per quanto riguarda l'animazione insomma hanno lasciato molto a desiderare ci è sembrato quasi un contentino è un rammarico questa cosa perché non devono andare avanti quelli che rompono le scatole si fanno sentire dovrebbe esserci come dire una distribuzione equa di quelle che sono le iniziative di quelle che sono poi che è anche il rispetto delle aree commerciali mi permetto di dire, ho visto che in altri campi, in altre situazioni comunque l'amministrazione, e io in genere sono sempre uno critico lei mi conosce, comunque ha dialogato se poi ha realizzato o noi desiderata questo è un altro punto io mi permetto di dire queste giuste, legittime rimostranze forse sarebbe anche il caso di esternarle non so se l'avete già fatto ai diretti interessati cioè dire sì, benvengano queste iniziative però noi non siamo, come dire, i figli di un Dio minore ma sicuramente sono cose che sono state fatte con i nostri interlocutori ma poi non è neanche il caso di far nomi perché poi voglio dire è l'amministrazione comunale per intero quella che risponde che risponde sicuramente beh, il progetto non era male perché si parlava di animazione di filodiffusione e di luminari, ripeto però poi nel concreto quello che è stato realizzato insomma, si poteva sicuramente fare di più forse più sul oltre alle luminari che hanno la loro importanza però per me hanno un'importanza importante ma hanno una funzione importante ma comunque relativa forse sul piano dell'animazione perché l'animazione crea gruppo crea movimento crea movida certo, ma sfondo in una porta aperta sai le iniziative che noi abbiamo fatto negli anni qui abbiamo fatto nuove edizioni di Notte e di Natale di Teletron edizioni di festa di fine estate oggi siamo impossibilitati a poter chiudere l'area pedonale per le motivazioni che sappiamo bene e speriamo di poter ritornare a poter, come dire usufruire dell'area pedonale per intero per poter fare delle belle cose di nostro non ci siamo fermati comunque ci siamo dedicati alla tradizione quindi dalle caldaroste ai gruppi musicali così come le pettolate della tradizione quelle sono state le uniche cose che abbiamo potuto rispettare per il resto ci aspettavamo qualcosa di più ma insomma in effetti poi concretamente non c'è stato io voglio essere speranzoso nel senso di dire per l'anno prossimo magari fare memoria di questa situazione che certamente vi ha penalizzato e come dire forse mettere i puntini sulle i per far sì che anche Tre Carrare abbia una maggiore dignità e luminosa e acustica e anche a livello proprio di iniziative di aggregazione quindi di eventi natalizi secondo me ripeto ormai questo Natale è andato però come dire far sì che un'esperienza non tutt'altro che esaltante possa però essere lo spunto per raddrizzare la rotta ma sicuramente sì siamo sempre propositivi su tutto quello che poi ci viene proposto e lì dove c'è il dialogo ovviamente ripeto questa cosa è mancata sicuramente perché le prospettive erano altre e poi nel concreto ci siamo ritrovati tutt'altro fermo restando che sono da apprezzare ecco anche la conferenza stampa fatta qualche giorno fa su tutti quelli che saranno gli sviluppi positivi sulle cose da fare c'è tantissimo però rispettare le istituzioni penso che sia alla base di tutto Mario Raffo presidente di Federmoda di Confcommercio Taranto il bilancio di queste attività commerciali nella stagione natalizia facciamo un po' il punto iniziative dell'amministrazione richieste dei commercianti vediamo un po' come sta andando anche così la resa perché poi alla fine il vero come dire arbitro quello che decide è il cliente come stanno andando le cose? insomma diciamo che proprio il commercio non è fiorente però comunque cerchiamo sempre di difenderci siamo sempre anche perché sappiamo bene la situazione che vive Taranto non stiamo qui a spiegarlo è una situazione sicuramente particolare però vediamo sempre l'ottimismo i nostri colleghi sono sempre energici a proporre e a proporsi per eventuali iniziative noi come Federmoda abbiamo apprezzato moltissimo il progetto di quest'anno del Comune è stato un progetto a 360 gradi un progetto che ha richiamato le folle tra virgolette se così le vogliamo chiamare anche dalle province si è cominciato a rivedere un po' di persone per strada con il gusto di passeggiare tra le note musicali e l'illuminazione il Borgo è stato molto nel Borgo è stato molto apprezzato questo lavoro si poteva fare qualcosa di più diciamo per le altre aree commerciali sia per quanto riguarda Cesare Battisti che per quanto riguarda la via vigoria non ci dobbiamo dimenticare che sono due aree importanti del commercio tarantino capiamo anche insomma l'amministrazione che con grandi sforzi quest'anno ha messo in atto questo progetto però noi salvaguardiamo e diciamo e ci proponiamo come associazione del commercio quindi di conseguenza dobbiamo pensare un po' a tutte le aree io mi approfitto per fare un plauso insomma al nostro assessore Marti che si è tanto prodigato per questo progetto perché lo abbiamo seguito dall'inizio e se anche con tante difficoltà alla fine insomma si è portato il risultato a casa quindi noi come Federmoda ci tenevamo insomma a ringraziare l'amministrazione per questo grande sforzo e guardare avanti e che sia l'inizio di un percorso e guardare anche al prossimo anno di fare qualcosa in più sempre in collaborazione con la nostra associazione e con le associazioni di categoria che guardano al futuro e che vogliono una Taranto diversa una Taranto migliore Italia Montegranaro via Liguria e via e traverse Limitrofe beh ovviamente parliamo di un'area commerciale importantissima io dico sempre è l'altro salotto della città perché c'è il salotto storico che è il borgo però via Liguria è il salotto di Taranto è uno dei salotti più ricchi di Taranto e allora vediamo come il commercio in via Liguria e zone adiacenti sta vivendo questo Natale siamo infatti con Giuseppe Spadafino presidente della delegazione Italia Montegranaro di Confcommercio Taranto allora tante iniziative vediamo anche queste casette tipiche insomma ci illumini sul quadro della situazione diciamo che come ogni anno noi commercianti di Italia Montegranaro in quello che è il concetto che più volte abbiamo espresso quello dell'unione quello della comunione di intenti quello di andare lì a spingere per quello che è un quartiere che va difeso va riguardato valorizzato in quelle che sono diciamo le quotidianità noi dobbiamo dire abbiamo un gruppo di commercianti coeso che sempre più sta crescendo in questo diciamo quest'anno ma anche negli anni scorsi si è aperto a questo dialogo con l'amministrazione comunale che al di là degli eventi natalizi quest'anno abbiamo fatto una rassegna di eventi natalizi dove noi abbiamo fatto la nostra parte offrendo popocorn facendo degli eventi zucchero filato facendo anche delle degustazioni gastronomiche gratuite per i clienti però il concetto più importante è che dietro l'ASTAG uniti per il quartiere noi intendiamo un'unione di intenti che viene per quella che è la valorizzazione delle vie del commercio per le strade del commercio quindi nel nostro caso la via Liguria il centro commerciale Liguria e Italia Montegranaro questo perché perché se riusciamo a salvaguardare il nostro quartiere in quelli che sono le quotidianità i piccoli le piccole attenzioni che dobbiamo avere anche come aspetto critico nei confronti dell'amministrazione è quella critica costruttiva critico nel senso di proprio l'etimologia crino giudicare non il marciapiede rotto però vediamo che in questi in questi mesi la risposta dell'amministrazione è velocissima abbiamo aperto un dialogo che nel 2020 si proietterà su una programmazione molto più intensa di eventi ma la cosa più importante è che insieme stiamo tutelando quello che è il valore dell'acquisto sotto casa la salvaguardia del negozio la salvaguardia della vetrina la salvaguardia dell'insegna e quindi della luce perché è un patrimonio di tutti quel rapporto proprio confidenziale intimo familiare che c'è con il bottegaio uso questa espressione con l'accezione più nobile e positiva del termine infatti noi siamo proprio per questo per questo principio il valore che si deve dare l'acquisto sotto casa l'acquisto dei negozi di vicinato perché quel rapporto sicuramente il centro commerciale chiuso perché lo chiamiamo chiuso non te lo può dare i valori che ti può dare un centro commerciale all'aperto come quello di via Ligoria che fa capo a un'organizzazione come quella di Confcommercio è un valore che secondo me è la salvaguardia del proprio patrimonio la salvaguardia dei tarantini e del patrimonio dei tarantini perché una luce accesa in una via commerciale è un patrimonio per tutti parlando di affari di entrate di economia in movimento come sta andando il commercio in questo periodo dobbiamo dire che noi abbiamo notato quest'anno più che negli altri anni un cambiamento di abitudini per quelli che sono gli acquisti natalizi mi spiego meglio abbiamo visto che con la partenza del Black Friday è partita come uno start è una propensione all'acquisto quindi da quella data abbiamo notato che i fruitori i clienti sono venuti nei nostri negozi e hanno comprato i regali non nella fase finale del mese quindi il 22-23 ma si è spalmato da quella data è partito proprio l'acquisto e l'abbiamo notato dal fatto che i nostri clienti ci chiedevano delle confezioni di regalo quindi quello è stato proprio un test che ci ha detto che l'acquisto è partito molto prima un acquisto più attento sicuramente un acquisto fatto di ricerca dove il nostro competitor maggiore chiaramente sono gli acquisti online però noi se riusciamo a salvaguardare il principio che ci vede uniti e il principio che ci vede protagonisti per la strada in quello che è un principio proprio di vissuto reciproco e di tutela reciproca io penso che non ci sia storia per quelli che sono i processi futuri anche se chiaramente quello degli acquisti online è ormai una grossa realtà ed è una realtà con la quale ci dobbiamo sempre di più confrontare grazie a tutti Grazie a tutti.